io sono già pronta ultima prova stai attento alla mano filo deve stare attento se non prendo io se cade dai io già non lo vedo la telecamera non lo finta più eh ma pesato simmetizza eccolo ragione si muove che una bellezza ma adesso primo volo dai dillo è uno spettacolo danny vuoi provare tu che non riesco a beccarlo mi spiace anche dici vieni vuoi fare anche tu ingegneria aeronautica come ti dicono fai costruisci tutta questa cosa che bello non vuoi girare lui fa anche le cappiole si guarda questo qui è maneggevolissimo wow ma non riesci con la telecamera lo perdi ah ecco non sono io ok mi avessi un trasfuoco col colore del cielo mi fa la roccia Filippo fa sparescente non vuoi dire dai arriva 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 lo metto a fuoco che è fidato interraggio uuuuuh uuuuuh sei bello sei bello pensa che noi persone ma guarda come sale ma guarda come sale sono molto grandi ma che roba e ci saliamo su uuuuuh uuuuuh cosa che ha preso non ha preso niente ha perso i pezzi si è staccato qualcosa la pasteria è tutto